Rafforzare i rapporti fraterni tra i cristiani, promuovere il dialogo e la pace per il Medio Oriente e sostenere la fede della piccola comunità cattolica locale. Sono questi, secondo il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, gli aspetti chiave del viaggio di Papa Francesco in Turchia. Il pellegrinaggio tra il 28 e il 30 novembre ha luogo in occasione di Sant'Andrea Apostolo, festa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Va a condividere la gioia e la celebrazione di quella chiesa e va appunto anche per firmare questa dichiarazione comune, una dichiarazione che si colloca un po' sulla scia di quella già firmata a Gerusalemme nel maggio scorso e che intende appunto rafforzare i legami di amicizia, di collaborazione, di dialogo fra le due chiese e di esprimere preoccupazione anche per la situazione e la sorte di tanti fratelli cristiani che si trovano in situazioni di difficoltà e di persecuzione soprattutto nella regione del Medio Oriente. Impossibile non pensare alla delicata situazione in Medio Oriente resa ancor più precaria dall'opera sanguinaria del sedicente Stato Islamico. La pace sembra impossibile, come spezzare questa spirale di violenza? La soluzione la conosciamo, la soluzione è più facile e più difficile di quello che sembra ma comunque deporre le armi e avviare un dialogo, avviare un negoziato. che ci possa essere una soluzione armata, che ci possa essere una soluzione unilaterale imposta con la forza da parte di qualcuno. La Santa Sede l'ha sempre detto, ecco la soluzione non può essere che regionale, che comprensiva e tenere conto degli interessi e delle aspettative di ognuna delle parti coinvolte. Purtroppo in questi giorni assistiamo anche a un ulteriore deterioramento della situazione in Terra Santa. Alla violenza ci sono numerose e drammatiche conseguenze, pensiamo alle migliaia di persone in fuga, ai confini, in cerca di salvezza, così come a una presenza sempre più esigua dei cristiani in questi luoghi. Cosa fa la Chiesa in questo orizzonte? Beh, credo che la Chiesa è impegnata veramente in un grandissimo sforzo proprio di sensibilizzazione prima della comunità internazionale per soccorrere alla necessità di questi fratelli e sorelle che sono profughi e rifugiati e poi mettendo in campo proprio tutti i suoi mezzi, diciamo, della carità. Ecco, sappiamo quanto le organizzazioni internazionali cattoliche, le agenzie cattoliche di aiuto, le Caritas, ecco, stanno operando nel terreno proprio per soccorrere i bisogni di questi, di questi nostri fratelli, soprattutto di fronte all'inverno che è già, che è già arrivato e che renderà ancora più precaria e più dura la loro soluzione. E poi questa insistenza giusta, doverosa, necessaria sul diritto al ritorno. La Turchia dove appunto Papa Francesco a breve si recherà è caratterizzata da una convivenza multiculturale e multireligiosa. Quali sono a suo avviso gli aspetti ai quali Papa Francesco vorrà dare corpo anche? Prima di tutto una, come dire, una sollecitudine nei confronti della Chiesa, della Chiesa locale, una piccola Chiesa che negli anni passati è stata anche testimone di episodi dolorosissimi, di violenza, ecco, ma che persevera nella sua missione, testimoniare una presenza per assicurare, ecco, questo dialogo con l'Islam che è molto importante.